Manifestazione di protesta questa mattina a San Giuseppe Vesuviano contro la cattiva gestione nel commissariato di polizia. In piazza il sindacato di polizia COISP in rappresentanza dei circa 1000 operatori di polizia partenopei, tanti i motivi alla base del maccontento che hanno indotto il secondo sindacato di polizia maggiormente rappresentativo nella provincia di Napoli a manifestare dalla carenza cronica di personale alle gravi violazioni contrattuali e normative fino ai trasferimenti e alle sanzioni punitive. Poliziotti pugnalati alle spalle dalla stessa amministrazione, il perché di questa manifestazione? Innanzitutto perché c'è una carenza cronica di personale, abbiamo chiesto al questore di rafforzare questi commissariati soprattutto il commissario di San Giuseppe e poi per le violazioni contrattuali che stanno subendo i colleghi del commissariato dai doppi turni, due notte consecutive, pomeriggi a più non posso, oltre poi quelle che sono le norme che tutelano quelle che è la famiglia per chi è portatore di handicap che abbiamo colleghi che stanno subendo addirittura i trasferimenti perché hanno protestato questa dirigenza che al momento è poco sensibile. Cosa chiedete all'amministrazione? Siamo qui per sensibilizzare sia il capo della polizia che il ministro Piantedossi ma proprio perché devono intervenire, non se ne può più, noi da quattro mesi stiamo sollecitando il questore e a tutt'oggi nonostante ci siano tutte queste violazioni contrattuali a tutt'oggi è silente. Queste carenze sono solo relative a questo commissariato o anche altri commissariati della zona? Diciamo che questo è il commissariato che ci sta dando un po' dei problemi perché abbiamo una dirigente che è poco oculata nella gestione del personale però abbiamo un territorio, questo del Vesuviano, che comunque si ritrovano senza personale che comunque per fronteggiare, per dare quella percezione di sicurezza sul territorio sono costretti i colleghi, ahimè, a fare turni diversi da quello che sono contrattualmente previsti. Addirittura sanzioni disciplinari, poliziotti puniti per chiedere dei permessi per i figli disabili? Sì, la legge riconosce ai colleghi che hanno dei figli disabili di poter effettuare qualora anche il conige sia in polizia di effettuare turni alterni al fine di garantire poi l'assistenza ai figli disabili. Capitato che questa legge è stata violata e i colleghi sono andati a recriminare l'osservanza di questa legge e le richieste sono state mandate al mittente con addirittura poi sanzioni disciplinari, amplificando queste richieste che erano legittime da parte del dipendente. Questo è un po' il clima che si respira in questo commissariato. Si respira un po' un'aria pesante. Colleghi che subiscono dei trasferimenti interni senza averne fatto richiesta, senza aver prodotto nessuna istanza, solo perché non si sono adattati alla mala gestio del commissariato. Quindi chi è contro il sistema del commissariato subisce questi trasferimenti interni che sono tra virgolette punitivi. Anche l'agente del posto comune del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano appoggia questa protesta per gli amici della polizia? È vero perché la macchina sul territorio non ci stava quasi mai perché non c'è stata credenza di uomo. Poche volte che uno chiama e dice che non c'è stata la macchina per uscire. Se uno non ha capito non c'è più la macchina. Poi mi è capitato molte cose. Ho già uscito a quest'ora di Napoli per non rinnovare Portodamme. Lei dice che non è competenza mia, è competenza della prefettura. quando è lei che manda la PEC per informazione. È ridicolo. Non funzionare che si permette di dire queste cose. Io ho scritto a quest'ora, ho messo a corrente tutti questi fatti. È la criminalità che ha potere sul territorio, non si fa niente.